Abbiamo Don Vito, l'assistente dei giovani. Ciao a tutti. Che emozione, come è tornata? Sicuramente grandissima perché è stato bellissimo vedere tantissimi ragazzi giovanissimi che hanno affollato da stamattina a Piazza San Pietro e poi vedere questi giovani, questi giovanissimi che sono qui a rendere davvero calda questa piazza. E che cosa ne hai detto oggi a San Tepan? Io al baffo ho voluto dire una cosa molto semplice, ho detto santità, i giovanissimi di azione cattolica le vogliono un mondo di bene e lui ha detto grazie e anche io mi sono commosso un po'. E c'è di più!